Abbiamo la fase di attenzione a quelli che sono i possibili clienti grazie alle azioni di nurturing, ossia di tenuta del contatto, di mantenimento della fiducia, di meccanismi in cui il potenziale cliente o il cliente viene coccolato nelle modalità più vicine alla sua profilazione, quindi non un messaggio generico, non una taglia che va bene per tutti, ma la taglia giusta per quel cliente. Questo meccanismo lo possiamo declinare come nurturing nel caso in cui parliamo di potenziali clienti che non sono comunque ancora convinti a rimanere con noi, o retention per quelli che sono poi la parte di tenuta, cioè il fatto che una volta che è cliente deve essere ugualmente coccolato e fidelizzato. Non è una cosa così che si trova normalmente, ecco è una delle fasi più trascurate come ho anche scritto. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando una volta che il cliente è acquisito uno dice lo dà per scontato. Sappiamo benissimo, lo dicono anche diversi manuali della qualità, che il costo per andare ad attrarre un cliente nuovo è otto volte superiore a quello di mantenere un cliente acquisito. Quindi banalmente è anche proprio un calcolo imprenditoriale sbagliato non gestire la fase di retention. Chiaramente ancora una volta riprendiamo gli elementi che sono già stati citati prima, la newsletter è comunque uno strumento di nurturing, il blog quindi degli articoli, delle informazioni che vengono postate sul nostro web e poi magari riprese dalla newsletter stessa, sono dei meccanismi con cui io tengo informato il mio prospect, il mio cliente di argomenti che hanno rilevanza. Quindi parliamo di blog, bellissimo nuovo prodotto, costa poco, ecco, no, deve avere dei contenuti chiaramente che possono essere ritenuti e ritenibili interessanti. Giuseppe, scusa, perdoni, si interrompe. Un esempio di blog molto utile in questo caso è quando ad esempio noi abbiamo prima, ad esempio, detto che è uscito una nuova versione di Microsoft, di Windows o di un software, il blog serve anche per dire magari che su quella stessa soluzione che noi stessi abbiamo venduto ci sono delle modifiche, magari non c'è più il servizio di aggiornamento automatico, piuttosto che non si hanno più la, sono state fatte, apportate magari degli aggiornamenti al software stesso, quindi comunque sono delle notizie che devono essere anche utili. Quindi il blog ha anche questa validità, quello di mantenere informato, la newsletter si spedisce ogni due settimane, però se una notizia è ovviamente urgente si utilizza un blog. Ecco, giusto questa è la differenza. Esatto, grazie. Ecco, è proprio la qualità del contenuto, dell'informazione, diciamo la news che magari ultimamente e sempre più vedrete quando ascoltate un telegiornale, sotto c'è una striscia con l'informazione più recente, quella più calda, quella più, ecco, il concetto è questo, cioè io ti devo dare un'informazione che ha un valore. Te la do, faccio in modo tale che questa informazione arrivi e ovviamente cerco in tutti i modi di renderla interessante per un eventuale proseguo di contatto. Per farvi capire quanto possa essere importante il nurturing, come dici prima te, noi siamo prima di tutto consumatori, giusto? Quindi a tutti, a quantomeno ha dato fastidio e dà fastidio quando magari una, adesso dico una compagnia telefonica, anche se loro comunque hanno delle strategie di marketing ben diverse, in ogni caso comunque in soldoni è sempre lo stesso. A tutti dà fastidio quando magari la compagnia telefonica dà il 50% di sconto se passi a, oppure se diventi nuovo, hai il 70% di sconto e giustamente uno dice, ma scusa, ma io che sono cliente affezionato da 20 anni, non mi dà mai un centesimo di sconto. A lungo andare, questo oltre che a creare frustrazione davvero, ti fa fondamentalmente cambiare immediatamente alla prima opportunità. E questo è un errore che appunto nel marketing stanno facendo in tanti, ma anche in tanti si stanno appunto rendendo conto e quindi stanno preferendo magari a dire grazie per essere stato un nostro cliente per tanti anni, il prossimo mese te lo offriamo noi. Questo non fa altro che rafforzare la fiducia, il rispetto dell'azienda ovviamente e questo fa fare anche un ottimo passaparola. Quindi il nurturing è proprio il mantenimento, però ahimè è una delle ultime delle cose prese in considerazione. Grazie.